Una partnership green, quella firmata da Alperia e Cassa di Risparmio, grazie alla quale nelle filiali dell'Istituto di Credito Alto Attesino potranno ora essere direttamente sottoscritti i contratti per le utenze domestiche. Cassa di Risparmio offrerà tutti i servizi energetici, praticamente la vendita dei nostri prodotti energetici green, sia di elettricità come anche di gas, e ovviamente anche come il combinato di tutti e due per un cliente bifull. Un mercato che coprirà? È un mercato che coprirà tutto il Veneto e ovviamente anche l'Alto Adige, dove noi oggi siamo già presenti con alcuni negozi, però il fatto che la Sparkasse ha una presenza capillare più grande, questi punti di contatto, soprattutto anche per quei clienti in Alto Adige che sono circa 80.000 che viaggiano sul mercato tutelato. Carattere green del progetto, quindi tutto garantito dalla tipologia dell'energia alperia proveniente da fonti rinnovabili dell'Alto Adige. Sono cinque offerte di energia elettrica, di gas, quindi tre dedicate ai contratti di energia elettrica e due per il gas. Si tratta di offerte che sono caratterizzate appunto dal tema della sostenibilità ambientale, quindi prodotti green, l'energia, parliamo quindi di energia prodotta da fonti rinnovabili e per quanto riguarda il gas parliamo di servizio di fornitura gas certificato con il marchio green. È una scelta che abbiamo fatto innanzitutto perché come banca del territorio dell'Alto Adige la sensibilità ambientale per noi è una cosa a cui non possiamo rinunciare. La diversificazione dei servizi vuol dire che la banca si propone oggi con qualcosa di diverso, ha preparato i propri consulenti a poter presentare in modo chiaro e puntuale questo tipo di offerte nuove. Un vostro cliente come farà ad accedere a queste offerte? Bene, da oggi semplicemente dialogando con la propria filiale, con il proprio consulente che è la persona che lo conosce e che quindi è in grado di cogliere meglio quelle che possono essere le sue esigenze, da oggi in poi può nelle filiali direttamente sottoscrivere un contratto di fornitura. Ha la capacità di ascoltare anche di vedere una simulazione di quello che può essere un costo di questi prodotti e capire se questo nuovo prodotto può essere adatto alle sue caratteristiche o meno. Grazie a tutti.